Michele Fornasier, archiviata la sconfitta di Cesena, si pensa alla gara con lo Spezia, è il caso di dire che il riscatto è d'obbligo? Sì, assolutamente, perché ogni qualvolta c'è venuta la possibilità di fare il salto di qualità, abbiamo mancato l'occasione, quindi vogliamo riprenderci subito e dimostrare la squadra che siamo veramente e che viene fuori nelle partite importanti. A chi dice che a questa squadra manca un po' di cattiveria agonistica, Michele Fornasier cosa risponde? Più che cattiveria manca la mentalità giusta per vincere quelle partite veramente importanti, perché più che cattiveria è la condizione mentale con cui noi entriamo in campo che conta e l'abbiamo fatto sempre vedere, anche contro il Cagliari, contro il Crotone, però poi quando magari facciamo due o tre bei risultati di fila, non so se ci appaghiamo inconsciamente o cose, però dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto secondo me, entrare ogni partita affamati e con la voglia di vincere. Cosa non è andato nelle ultime due gare giocate in trasferta per il settore arretrato? Magari perdiamo di equilibrio quando la situazione si mette male, però è proprio lì che dobbiamo migliorare, come ho detto prima, sotto l'aspetto mentale, perché le partite si possono vincere e perdere, però bisogna sempre dare il 100% e non mollare fino alla fine. A proposito sempre della difesa, Campagnolo ancora fuori, Bunozza in ripresa, diceva qualcuno che bisogna pregare la salute a Zupa, Ricci e Fornasier, perché non ci sono alternative in questo momento. No, però noi e Zupa siamo sempre pronti in qualsiasi evenienza, ma anche gli altri, anche Ugo e Bunozza, solo che è sfortuna nel calcio, c'è anche questa purtroppo, e loro ce la stanno mettendo tutta per recuperare dei loro infortuni, e noi cerchiamo sempre di dare il 100% comunque. Lo Spezia è un brutto cliente, squadra partita con ambizioni, in reduce da quattro sconfitte consecutive, sabato non ci sarà Calaio, ma rientrerà Catellani, un altro brutto cliente. Eh sì, sono tutti e due, due grandissimi giocatori, lo hanno sempre dimostrato, perciò ne manca uno, ma ce n'è sicuramente un altro, sono quel tipo di squadre attrezzate in tutti i reparti, che possono far male con qualsiasi giocatore.